Amor mi mosse, che mi fa parlare. Il mio nome non posso farlo davvero, ma l'abbio autoriso a pubblicare la seguente lettera che invio con di molta fiducia. Lo scopo della mi lettera l'è per far conoscere che nella vita esiste ancora l'amore vero. È di molto bello. Da circa un anno mi sono conosciuta con un giovane che è di molto gentile e carino e la mi darebbe tutto. Io la sono una prostituta e ogni notte, come la si fanno gli altri, batto il marciapiede dell'amicità per guadagnarmi il pane. Un anno fa, conobbico de sto giovane di venticinque anni, che subito mi incominciò a volermi bene di molto, e ci si incominciò a vedere sempre più spesso. Io non la ci credevo che un giovane potesse innamorarsi di una come me. Ora la sono sicura, dopo quello che la fa per me. Per starmi vicino sul marciapiede la sera, la si veste da donna, anche lui, perché se rimanesse vestito da uomo io perderai i clienti. Lui sta lì, vicino a me, e io la mi sento più sicura e faccio il mio lavoro con più passione. Ma la prova più grande che il mio amore la mi dà è la seguente. Molte volte, quando si ferma qualche macchina e vede che la sono già stanca perché ho di già lavorato di molto, allora sale lui sulla macchina e l'incasso lo dà a me. La milettera la dovrebbe essere, d'esempio, a tutti quei giovani d'oggi che non sanno più voler bene. A Cetrezza, Sicilia, un mio fidanzeto fa lo pisciaturi e tutti gli notti piscia negli mari e rimango sola nella casa senza paroli e senza amori. Io ho detto a mio fidanzeto di non andare a fare lo pisciaturi nel mari perché io potrebbi lasciari e così finire lo nostri amori. Ma esso tutti gli notti piscia nello mari. Come si potrebbe fare per non mandare il mio amore nello mari? Ho detti al padrone della navi che non portassi più il ragazzo nello mari, ma anche stanotte sono partiti e sono tornati domani. Io piango tutti i notti per il mio amore in mezzo all'omari e quando viene vento e acqua in lucello non senti più il mio cuori. Io non tengo niente a questi mondi solo che mi amori, ma tutti i notti sparisce nell'omari. Io non volevi che fossi pisciaturi e dissi che sarei fatta monacare se lui fossi andato per l'omari. Parlati con mio amore e scrivete una lettera sul giornale perché non posso più aspettare e Monica dovrò andare. Scrivete che non pisci più nel mari e torni da su amori. Viterbo, ho venticinque anni e mi sono separata dal marito perché lui voleva che io facessi delle cose che a me non piacevano neanche un po'. I nostri primi litisi incominciarono un anno fa quando lui mi disse che per avere dei rapporti sessuali con me doveva prima eccitarsi, altrimenti non sarebbe riuscito a fare niente. Innanzitutto era diventato insopportabile per le brutte parole che diceva e poi per il modo con il quale si comportava. Io sono una maestra elementare, educata in un collegio religioso ed allevata in una famiglia per bene e certe cose non ho potuto sopportarle. Vorrei qualche consiglio perché ora che è passato un anno dalla nostra separazione a volte ho dei rimorsi. Ma come potevo vivere con un marito che prima di avere un rapporto con me si calava da una finestra della camera completamente nudo e rimaneva appeso al davanzale con il rischio di cadere nel cortile per poi rientrare dall'altra finestra per mezzo di pericolose acrobazie. Come si fa ad andare d'accordo con un uomo che più di una volta si è messo la mia biancheria intima ed ha voluto che lo maltrattassi e lo picchiassi con una frusta? Negli ultimi tempi che siamo stati assieme era arrivato all'assurdo. Una sera, dopo aver bevuto quasi mezzo fiasco di vino andò a cercare una passeggiatrice e me la portò in casa dicendomi che era una sua compagna di ufficio rimasta vedova. Io ci credetti e l'accorsi con tutte le premure possibili ma quando mi accorsi della cosa scoppiai a piangere. Lui divertito si mise ad accarezzare la donna la quale però, vedendo me piangere e intuendo con chi aveva a che fare si arrabbiò, diede un ceffone a mio marito volle essere pagata e se ne andò. Ma la cosa per la quale ci siamo separati è ben più grave di quelle che ho sino a qui raccontate. Una sera invitò a cena un suo amico che io non avevo mai visto né conosciuto. Mi disse che era un vecchio compagno di scuola e che non si vedevano da più di dieci anni. Durante la cena mio marito non fece altro che versarmi del vino e allora io cominciai a insospettirmi. Infatti avevo ragione perché alla fine della cena mi fece la proposta che mise fine alla nostra unione. Mio marito pretendeva che io facessi l'amore con il suo amico mentre lui, nudo, alla finestra avrebbe fatto il verso del leone. Ne sembra possibile una riconciliazione? Direttore? Orte dei marmi, Luca Sono un giovane trentenne playboy della zona. Questa estate ho avuto un'avventura che è degna di essere raccontata al suo giornale. Conobbe una signora sui trentacinque anni abbastanza bella e per di più contessa. Dopo un periodo di flirt una sera la invitai a passeggiare nella pineta di D'Annunzio la stessa dove il poeta amò alla follia Eleonora Duse. È una grande pineta dove si respira un'aria romantica che invita all'amore. Riuscì, malgrado i diversi no della contessa a spogliarla e a farla adagiare sull'erba. Mi spogliai anch'io e subito passai all'azione. La cosa però non fu facile perché la contessa ogni volta che cercavo di coprirla si tirava indietro di mezzo metro e rideva. Continuai così per un'ora diventando folle di desiderio. Ma la contessa non si dava per vinta e continuava ad indietreggiare. Allora mi fermai di scatto e con tono seccato invitai la contessa a rivestirsi. Ma lei non ne volle sapere e dicendomi che aveva voglia di me perché la mia prestanza fisica aveva scatenato una tempesta nel suo corpo mi invitò di nuovo a coprirla. Non appena fui su di lei incominciò la solita storia della ritirata. andammo ancora avanti per un'ora in quelle condizioni con la contessa molto eccitata che rideva e indietreggiava. Non ho misurato il percorso ma credo che avremmo fatto all'incirca un chilometro di cammino strisciando come serpenti sull'erba. Alla fine della marcia la contessa che doveva essere un po' matta scappò di corsa si vestì e non la vidi mai più. Lungo tutto il percorso con la mia viridità avevo tracciato un solco come un aratro. Sondrio sono una ragazza di 19 anni e ho un fidanzato che quando parla sputa. Tutte le volte che mi parla d'amore a me viene da ridere e siccome in quei momenti si emoziona allora sputa di più e io devo ripararmi il viso con le mani come si fa ad apprezzare una dichiarazione d'amore in simili circostanze. Pochi giorni fa eravamo seduti vicino a un ruscello e c'era la luna. Dopo un periodo di silenzio lui cominciò a parlare e mi disse che aveva scritto una poesia per me. Durante la lettura fu tutto uno sputo e a me passò anche la voglia di ascoltarlo. Anche quando facciamo l'amore io devo nascondere il volto perché altrimenti me lo riempirebbe di sputi. Come posso fare a vivere con un uomo che amo ma che sputa? Ecco sono una giovane sposa afflitta da un complesso terribile che mi rende la vita insopportabile. Ho un marito alto due metri e venti centimetri e la mia altezza arriva appena ad un metro e cinquanta. Tutte le volte che esco con lui mi vergogno perché con la mia testa arrivo appena sopra il suo ombelico. Io cerco per quanto mi è possibile di rimanere seduta in macchina ma mio marito si arrabbia e dice che l'altezza non conta e che quando due si amano non devono temere niente ma io non so rassegnarmi perché la differenza è troppa. Mio marito che è un uomo di una bontà infinita per non mettermi in difficoltà ogni volta che usciamo cammina piegato e a gambe larghe come se avesse l'emorroidi. Mi hanno già chiesto in molti che cos'ha. Ha anche interpellato qualche chirurgo per vedere se c'era la possibilità di farsi accorciare di qualche centimetro ma le risposte sono state sempre negative. Siccome avevo sentito dire che facendo spesso una certa cosa con la bocca al marito la sua colonna vertebrale ne avrebbe sofferto e quindi si sarebbe accorciata un po' ho provato anche quella e il mio povero Michele ora ha ridotto che sembra uno scheletro perché da un anno io faccio a lui quella cosa quasi ogni giorno lui non dice niente perché è buono la più grande umiliazione che provo quando sono con lui è nel momento intimo non riesco mai a manifestare tutto il mio amore perché il mio viso si trova sempre a grande distanza dal suo e se tento di baciarlo si interrompe l'amore e lui allora si arrabbia perché dice che mi allontano nel momento più bello lui mi dice sempre che lo baci dove arrivo ma come fa una donna innamorata come me a dover baciare in certi momenti così belli l'immaginetta della madonna che il mio Michele porta al collo genova negraggio dottore dopo aver letto questa mia lettera non mi dica anche lei che non c'è niente da fare per la mia triste situazione ieri l'altro ho parlato con l'avvocato come lei mi aveva consigliato nella lettera pubblicata nel suo giornale e da quanto ho capito la situazione è piuttosto difficile non ho ancora il coraggio di dire a mia moglie quello che da tanto tempo ho in cuore ma se le cose vanno avanti così bisognerà che mi decida ma guardi che cosa doveva capitarmi nei primi anni di matrimonio andava tutto liscio come l'olio e la nostra poteva dirsi una unione perfetta ma poi accadde l'imprevisto una sera mentre facevo l'amore tranquillamente verso le undici come sempre perché sono abituato a fare l'amore a quell'ora mi accorsi che in mia moglie c'era qualcosa che non funzionava o funzionava male la sua parte genitale cominciò a restringersi e nel momento culminale si trasformò in una morsa d'acciaio a parte il fatto che mia moglie rimase incinta contro la mia volontà lascio a lei immaginare il dolore che provai nella mia parte solo a cosa avvenuta potei liberarmi al momento non vi è di peso alla cosa e pensai che si trattasse di un fenomeno nervoso passeggero ma con l'andare del tempo visto che il fenomeno si ripeteva incominciai a preoccuparmi seriamente portai mia moglie dal ginecologo ma non fu riscontrato niente di anormale in lei disse che si trattava di un fatto emozionale e col tempo le cose si sarebbero messe a posto specialmente dopo la nascita del primo figlio è passato il tempo è nato il figlio ma quando faccio l'amore accade sempre la stessa cosa abbiamo provato tutte le posizioni cerchiamo di compiere l'atto sessuale molto lentamente per non eccitare troppo la sua parte ma non c'è niente da fare per di più mia moglie vorrebbe fare l'amore tutte le sere la mia parte è già tutta piena di lividi e se vado avanti così non so come andrò a finire bisognerà che mi faccia visitare anch'io io voglio molto bene a mia moglie e per questo mi sono sacrificato per molto tempo ma ora non ce la faccio proprio più perché mi fa troppo male lei pensi che è come un anello che si stringe violentemente tanto da farmi urlare ogni volta se protesto mia moglie dice che è una scusa perché il mio amore per lei è diminuito e allora devo andare avanti c'è qualche rimedio alla mia situazione fiducioso attendo Firenze io essere una ragazza tedesca che avere sposato un ragazzo italieno che ora non tirare più coso perché operato di tonsillagola io ho detto lui che lasciare se non tirare più coso ma lui molto arrabbiato detto che coso tira ancora ma io non vedere niente mai ed essere disperata perché io avere 20 anni io avere detto sempre di non togliere tonsillagola ma aspettare che passi naturale anche se essere grosse palle rosse io non potere più vivere a casa mio marito perché mamma dice che io volere solo coso e non avere amore per marito ma io sono donna che volere figli è come fare senza coso io aspettare ancora un mese per vedere se coso spuntare poi andare via da casa a cercare perché io non sapere resistere questa vita già scritto papa germania e anche lui detto di andare se coso non venire perché figlia senza coso non bene mia mamma non detto niente ma ha lasciato capire che essere brutta situazione non essere in italia dottore che fa tirare coso dire sa essere dottore perché salvare un sposalizio su cattiva via per colpa marito che non tira più testo san giovanni mio adorato pippo bauduccio io ti voglio chiamare da ora in poi pinuccio tu sei la mia angoscia il mio tormento e la malattia che mi strugge ma è vero che sei senza capelli no dimmi che non è vero che sono tutte cativerie ed invidiosi ma anche se sei senza capelli per me è uguale ti voglio bene anche pelato o con paruca lo sai che non dormo la notte per te mio adorato pippo bauduccio e tu che fai non pensi a me non senti fischiare i tuoi orecchi io ti amo ti amo ti amo e ogni volta che sono assieme ad un altro uomo penso a te e chiamo bauduccio e allora l'uomo che è con me si arrabbia e io devo confessare la verità tu e io sempre insieme uniti come due persone sia mesi lucca chiedo molte scuse se scrivo questa lettera ma vorrei poter avere dei suggerimenti in merito a una mia cosa che da qualche anno faccio per mio marito morto di cirrosi epatica all'ospedale di lucca nel maggio di quattro anni fa in casa dicono che sono diventata matta ma io non ascolto nessuno e continuo a fare quello che il mio povero fernando chiese in punto di morte ricordo tutto come se fosse ora lui era lì con il rantolo dell'agonia e a un certo punto mi guardò fisso negli occhi e disse ernesta dammi un bicchiere di vino e per lì credetti che fosse la febbre del delirio ma lui dopo un po' mi ridisse ernesta dammi un bicchiere di vino allora chiamai il dottore e lui dopo aver dato una guardata al mio marito disse dia al suo marito tutto quello che vuole perché tanto ormai non c'è più niente da fare allora io andai a prendere un fiasco di vino buono di quello che beveva sempre il mio povero fernando e incominciai a versare del vino alla povera buonanima mi ricordo che lui diceva come buono come buono e giù un altro bicchiere a mezzanotte morì ma prima che espirasse mi fece un cenno con la mano che mi avvicinassi e mi disse con un filo di voce non voglio fiori sulla tomba l'unica cosa che mi devi portare ogni sabato pomeriggio è un fiasco di vino come questo lo devi versare tutto sulla mia tomba così mi sembrerà di essere all'osteria io da quel giorno ho obbedito al mio caro marito e tutti i sabati alle due quando nel cimitero non c'è nessuno vado alla tomba e verso nella terra il fiasco di vino ora sono quattro anni e di fiaschi ne ho già versati tanti la tomba è diventata di un color rossastro e si sente l'odore di vino di vecchino che non lo sa mi ha detto un giorno che forse la cassa di legno non ha tenuto bene e allora traspira dalla terra il cattivo odore la gente si meraviglia della tomba di mio marito che è senza neanche un fiore e per di più ridotta così ma loro non sanno la verità di questa cosa non sa niente nessuno ad eccezione dei miei tre figli che mi dicono di continuo che sono matta ora io vorrei sapere da lei se questa mia cosa è giusta o no come si fa a disobbedire al desiderio di un morto e se il vino arrivasse davvero alla bocca di mio marito e lui lo bevesse una vicina di casa mi ha raccontato che il suo povero marito per tanti anni ha continuato a bussare alla porta di casa di notte sempre alla stessa ora se smettessi di portare il vino sulla tomba mi sentirai in colpa verso mio marito a volte penso se è meglio per un morto un fiasco di vino o un mazzo di fiori vorrei che mi rispondesse a questa mia lettera e perdoni se chiedo una cosa così delicata grazie a tutti grazie a tutti